Le piogge degli ultimi giorni hanno costretto i tecnici e i dirigenti del Comune di Coma a chiudere temporaneamente via 27 Maggio, conosciuta ai comaschi come la Valfresca, per un pericolo smottamento. Il fronte a rischio, che insiste su una proprietà privata, è alto circa 15 metri. Il terreno ha iniziato a scivolare verso il basso, alberi e arbusti non reggono più il peso della terra impregnata d'acqua e le piogge copiose delle ultime ore non hanno certo migliorato la situazione, anche se in mattinata la strada era ancora libera, e il fango non era arrivato sull'asfalto. Sul posto, da ieri, i tecnici del Comune di Coma per effettuare le verifiche geologiche. Nel frattempo la strada è stata chiusa da ieri sera in via precauzionale a tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso e delle forze dell'ordine.